Volevo chiedere la sua posizione sugli OGM, visto che siamo in un momento storico in cui l'Italia dovrà decidere da che parte stare, perché l'Unione Europea le ha dato questa possibilità. Se è meglio preferire i cibi biologici, quando c'è la possibilità, o i cibi a chilometro zero, quelli noti, piuttosto quelli di cui non si sa la provenienza. Ma questa è una domanda tendenziosa perché tu sai già la risposta. Però loro non la sanno. C'è scritto anche su Amterra Nuova la risposta. No, allora, gli OGM sono pericolosi per la terra, per la povertà, per la fame. Questa è la principale ragione per cui dobbiamo combattere, perché la monocultura degli OGM sta affamando popolazioni nel mondo. Questa è la ragione. Se gli OGM che ci sono adesso, fondamentalmente la soia, il mais e il cotone, perché tutte le altre tentativi che hanno fatto sono stati fallimentari. Ma sulla soia e il mais noi importiamo, sapete, è proibito produrli in Italia, ma ne importiamo enormi quantità per nutrire gli animali. I nostri animali mangiano un cibo che non è il loro, e per di più. Io non sono preoccupato, se nel mio piatto a un certo punto mi capita della soia OGM, che perché mi sarà già capitata, immagino, perché qualche imbroglio ci sarà frustrato nel mondo. Ma perché non ci sono delle solide dimostrazioni che faccia male. Fa male al pianeta. E poi perché mai dovremmo mangiare il cibo OGM? Non c'è nessun vantaggio, non c'è nessun vantaggio economico, se non per chi brevetta questi... Io sono rimasto colpito, andavo i primi congressi sulla soia, e un campo di soia OGM, trattato con il round up, con il glifosato, produce forse il 2-3% in più di un campo di soia tradizionale. Non c'è nessuna ragione economica di produrre gli OGM. L'unica ragione è per monopolizzare i segni. Quindi no agli OGM, certamente no agli OGM. E dobbiamo diffondere questa informazione. C'è stata fatta un'informazione martellante da parte dell'industria sulla utilità degli OGM. È un'informazione fatta di falsità, gli OGM per combattere la fame del mondo. No, gli OGM sono una causa della fame del mondo, non una cosa per combatterla. Ma io non sono contro la ricerca sul DNA ricombinante, sono state fatte delle cose meravigliose, è stata creata l'insulina. Oggi un diabetico può vivere bene grazie alle nostre capacità di fare produrre a dei batteri OGM l'insulina. Per cui sono favorevole alla ricerca in questo campo. Ma giù le mani dal cibo. Difendiamo il cibo, riappropriamoci del nostro cibo, vogliamo il nostro cibo. L'altra era l'agricoltura biologica. Non è che me ne intenda tanto, però parlando con chi fa la permacoltura per esempio, mi sto rendendo conto che funziona, la produttività è elevata. Poi a volte la produttività è più bassa, ma perché produci, perché usi dei semi antichi. E se fai il grano monococco, ti rende meno naturalmente che non i grani moderni, quelli rittissimi di questo glutine. Io penso che prima di distruggere definitivamente il pianeta, gli interessi produttivi andranno verso il biologico. Perché finirà per rendere di più. Perché se noi distruggiamo la terra, se noi sterilizziamo la terra, e poi non ce la facciamo più a produrre così tanto. La rivoluzione verde è stata una cosa fantastica. Ha aumentato enormemente la produttività. Oggi però i contadini si suicidano perché sono indebitati, perché i terreni non vanno più niente. E perché l'acqua è inquinata. Mi sono riferente ai contadini dell'India in questo momento. E per cui io penso che sarà inevitabile che torneremo a produrre il cibo senza chimica. Adesso siamo nella fase più brutta della grande aggressività dell'industria. Ma io penso che se noi riusciamo a difenderci dal monopolio dei semi, si tornerà a questo.